Eccoci oggi nel nostro tour di incatenamento per protestare contro il silenzio dell'amministrazione comunale Capitolina, contro il sindaco Lemano, per protestare contro il silenzio riguardo alla nostra proposta di trasferimento periodico dei vicini urbani da un municipio all'altro della capitale, vicini urbani e divenendo gli uffici tecnici per garantire trasparenza e imparzialità nell'estratamento delle funzioni come garantito dall'articolo 97 della Costituzione italiana. Oggi abbiamo scelto T9, una televisione che fa capo al gruppo Caltagirone, una televisione più seguite in ambito Capitolino che però non ha mai dato spazio a questa nostra protesta e oggi ci troviamo proprio di fronte a questa televisione, proprio agli studi di questa televisione in via salaria, proprio per poter in qualche modo sensibilizzare anche alcuni organi di informazione. L'abbiamo fatto di fronte già a Repubblica, Messaggero, l'abbiamo fatto di fronte a siti istituzionali come la Regione Lazio, il Campidoglio e adesso siamo anche qui, T9, qui sulla salaria, da dove noi oggi lanciamo ancora un appello, un appello a tutti i cittadini, di continuare a seguirci dopo averci già appoggiato con 30.000 firme, ma il Sindaco Alemanno purtroppo ancora non ci risponde, non ci risponde, aveva già demandato la questione all'assessore Cavallari, ma Enrico Cavallari, assessore al personale del Comune di Roma, non ci ha ancora dato una risposta certa e ha soltanto pensato, ha un po' soltanto un silenzio incredibile, un silenzio incredibile, a questa nostra proposta il trasferimento periodico per garantire trasparenza e legalità, imparzialità e spedendo le funzioni, perciò contro la corruzione e la concussione, contro la corruzione e concussione da parte di questi comparti lavorativi, appunto vigili urbani e dipendenti dagli uffici tecnici comunali, non siamo noi a dirlo, ma è la magistratura, solo le inchieste, spesso è capitato di avere notizia dalle cronache, rimbalzo dalle cronache questo tipo di notizie, il fatto appunto di arresti da parte della polizia, dipendenti dalla polizia municipale, dipendenti dagli uffici tecnici e noi per evitare che ci siano collusioni, in modo preventivo, per evitare appunto che queste persone vengano in qualche modo tentate dal poter ricevere qualche occasione, per avere qualche occasione di lasciarsi corrompere, noi proponiamo appunto questo trasferimento ogni tre anni da un municipio all'altro di questi dipendenti, magari per quadranti territoriali, ma da un municipio all'altro sicuramente non si può prescindere, andremo ad oltranza le nostre proteste, noi dell'Italia dei diritti, io in prima persona come Presidente sto portando avanti questa protesta e andremo avanti perché non si può prescindere assolutamente da questo tipo di proposta, trasferire periodicamente i vigili urbani e dipendenti dagli uffici tecnici capitolini da un municipio all'altro ogni tre anni, per garantire l'imparzialità e l'esplodamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esplodamento delle proprie funzioni, come garantito, ripeto, dall'articolo 97 della Costituzione italiana. Abbiamo già incassato vari pareri positivi, a cominciare da alcuni Presidenti di Municipio, a cominciare dal Comandante Generale Angelo Giuliani che per bocca di Diego Porta, appunto, del Dottor Diego Porta che è il Vice Comandante della Polizia Municipale di Roma e a questo punto aspettiamo la risposta definitiva dell'Amministrazione capitolina, appunto, dal Sindaco Le Magno e dal Sore Cavallari investito appunto di questa responsabilità, di questa decisione appunto per poter avviare un tavolo di concertazione. Noi assolutamente non recederemo da questa nostra richiesta, noi andremo avanti con la nostra battaglia, supportati appunto da 30.000 cittadini che vogliono legalità e ci hanno chiesto questo, continueremo ad andare avanti ma soprattutto per garantire quei principi di cui parlavamo poc'anzi ma soprattutto anche per garantire quei pochi, quei tanti anzi vigili urbani, tantissimi vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici che da sempre, che sono la maggioranza appunto, da sempre vengono inficiati dal comportamento anomalo e illegale, illecito e illegale, da alcune belle marce, perciò per garantire anche l'immagine stessa del Corpo della Polizia Municipale e degli uffici tecnici comunali e di tutto, tutti i dipendenti comunali. Questa è una cosa importantissima da cui non si può prescindere, perciò la nostra battaglia è anche in favore di queste persone, diciamo che chi si macchia di reati quali corruzione e concussione sono escrementi dell'apparato istituzionale e come escrementi devono essere espulsi, questo è il nostro messaggio che mandiamo al Sindaco Alemanno, garantiamo anche l'immagine del Corpo della Polizia Municipale la stragrande maggioranza di questi lavoratori, di questi travè, come anche gli impiegati comunali, tutti gli impiegati comunali che fanno il loro lavoro con abnegazione e con senso del dovere, perciò eliminiamo le mele marce.